Molti si attendevano che i processi di digitalizzazione dell'economia avrebbero diffuso le opportunità di crescita riducendo la distanza tra aree centrali e periferiche. A questo tema è dedicato il libro Periferie competitive e lo sviluppo dei territori nell'economia della conoscenza scritto a quattro mani da Giulio Busciuni che insegna al Trinity College di Dublino e da Giancarlo Corò, professore ordinario di economia applicata all'Università Ca' Foscari di Venezia dove insegna economia dello sviluppo. Se ne è discusso a Crotone alla Biblioteca della Follia per iniziativa della Fondazione Odissea. Crotone è oggi una periferia senza dubbio, è una periferia di una periferia, deve pensarsi competitiva. Per pensarsi competitiva ci vuole un programma di lungo termine, ci vuole un programma che sappia anche articolarsi attraverso degli step intermedi. Il libro prende proprio in esame le dimensioni e le principali ragioni della divergenza tra centri e periferie che costituisce una delle più insidiose forme di diseguaglianza tra quelle che segnano l'economia avanzata mettendone a rischio l'assetto democratico. Dobbiamo per forza provarci perché oggi è il grande tema. Oggi il grande tema è ripensare la distanza tra i centri e le periferie che esistono da sempre ma che oggi sono marcati da una distanza crescente. Pochi centri che attirano a sé risorse finanziarie, risorse umane e le periferie che diventano sempre più numerose e staccate dai grandi circuiti dell'economia contemporanea.